Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sull'A1 rallentamenti per traffico tra BV1 Variante e Calenzano nella carreggiata verso Firenze. In Fipirì per interventi di miglioramento della sicurezza troviamo coda di un chilometro tra Impoli-Est e Ginestra verso Firenze, possibili disagi anche in carreggiata opposta tra Ginestra e Montelupo. Ricordiamo i percorsi alternativi sulla SP12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Uno sguardo al traffico ferroviario per un guasto temporaneo e gli impianti di circolazione nella stazione di Badesse, i treni regionali in linea potranno subire ritardi e variazioni. Coinvolti al momento due treni regionali che hanno maturato 20 minuti di ritardo e un treno, il Siena-Firenze 11752, cancellato sull'intera tratta. Per la cantieristica di Firenze segnaliamo che in settimana sono in corso lavori di asfaltatura in piazzale Campioni del 56, la riqualificazione di via Palazzuolo e lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica in via di Ripoli. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Oversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, un viaggio!